L'Associazione Falcone e Borsellino e l'Istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi nell'ambito del premio Borsellino tutto l'anno 2018 hanno organizzato per la giornata della memoria l'incontro dal titolo Se capire è impossibile, conoscere è necessario. Un momento di grande valore culturale per ricordare le vittime dell'olocausto e soprattutto per interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione dell'uomo contro altri uomini. Ospite d'eccezione Don Aniello Manganiello. È fondamentale il ricordo, ce lo ha ricordato anche la neosenatrice Diliana Segre, ci ha detto che la conoscenza e il ricordo sono appunto il vaccino più importante contro il ripetersi di queste tragedie, contro l'umanità. Quindi è importante quanto più nella scuola dare ai ragazzi strumenti di conoscenza perché effettivamente non abbiano a ripetersi queste atrocità. Siamo onorati di essere in questo percorso di crescita culturale del premio Paolo Borsellino tutto l'anno perché per i nostri ragazzi è un'opportunità in più per capire esattamente come muoversi, come saranno cittadini responsabili, oggi studenti responsabili, domani appunto cittadini consapevoli. Un invito, una provocazione ai ragazzi a rivedere la loro vita perché nella loro esistenza, nel loro quotidiano mettano in fuga, mettano fuori gioco l'indifferenza perché l'indifferenza può portare anche all'odio, a trascurare gli altri, a pensare solamente a se stessi. Insomma ecco, tutti noi possiamo essere autori e protagonisti di crimini, non di quella portata ma certo dell'indifferenza, dell'emarginazione, del rifiuto dell'altro magari perché ha un colore diverso, ha una cultura diversa. Negare, è come negare l'America, non ci sono stato, l'America non esiste, l'America c'è insomma, bisogna anche tener conto delle testimonianze, di quello che i sovietici quando sono arrivati ad Auschwitz hanno trovato, insomma, capelli, mucchi di scarpe, mucchi di capelli, i forni crematori che esalavano di un puzzo di carne umana bruciata, insomma, come si fa? vuol dire negare la realtà, ma se questa posizione è vera dobbiamo negare tante cose nella storia dell'umanità, non è possibile, insomma, bisogna dare attenzione e ascolto a chi, ecco, in prima persona ha visto, ma quello che poi Hitler ha fatto in Polonia insomma, possiamo contare, raccontare una serie sconfinata di crimini, di ammazzamenti, di uccisioni, di cui si è resa protagonista il nazismo stesso, insomma. Forti dubbi da parte della CNA di Tenamo sull'ipotesi avanzata da alcuni comuni della costa di introdurre dal 2018 la tassa di soggiorno sui pernottamenti in hotel, soprattutto perché questa misura potrebbe rilevarsi, secondo la CNA, un autentico boomerang, in ragione del fatto che l'aggravio dei prezzi a carico delle famiglie potrebbe pesare in termini di arrivi e presenze. Il discorso della tassa di soggiorno deve essere una decisione univoca, nel senso che comunque o viene attuata in tutti i comuni o a nessun comune. Cosa importante, certamente che sappiamo benissimo che noi dobbiamo attirare le persone, il turismo a venire nel nostro territorio, incrementando i costi certamente potrebbe scoraggiare a fare vacanza, ma la cosa che potrebbe essere veramente sensata è utilizzare quel denaro, come già dichiarato, per incrementare i servizi, quindi attirare in maniera adeguata il proprio turismo, dove certamente deve essere monitorato, perché diventerebbe una classica tassa che viene messa in un calderone e poi certamente non si riesce neanche più a gestirlo o a governarlo. Sui comuni della provincia di Tenamo ci sono alcuni che sono avanti e altri che sono indietro, però sembrerebbe che ancora non c'è una decisione univoca sulla questione. Questo ha pienamente ragione. Il problema, diciamolo così, dell'Italia, che delle volte ci sono tantissime leggi, però c'è chi l'attua e chi non l'attua. Non si riesce veramente anche come cultura ad avere una sinergia tra un territorio e l'altro, tra un comune, una provincia, una regione e l'altra, affinché la popolazione possa soffrire in maniera adeguata certamente del servizio e quindi anche comunque uno è dovuto a pagare una tassa, ma lo paga sia chi sa Giulianova, chi sta a Roseto, chi sta a Martinsicuro o anche a San Benedetto. Deve essere in questo ordine qui. Continua l'iter per la progettazione definitiva del quarto lotto della termomare, ovvero il tratto finale che dalla rotonda di Grasciano porta direttamente sulla statale adriatica. 80 milioni di euro l'investimento programmato dall'ANAS che ha elaborato due soluzioni per la nuova strada. La prima idea è quella che piace di meno, mentre al momento ha trovato maggiori consensi la seconda ipotesi, e cioè quella con l'attraversamento nell'area comunale di Roseto degli Abruzzi, in cui dovrebbe essere prevista un'uscita più o meno all'altezza di Piane Tordino e poi terminare sulla costa nel territorio comunale di Giulianova. Diciamo che abbiamo preso atto che l'unico tracciato compatibile con i soldi a disposizione è quello che prosegue dalla fine dell'attuale Teramo Mare a Mociano, sempre sul territorio di Roseto degli Abruzzi per poi rientrare con un ponte sopra il Tordino, per poi rientrare in territorio di Giulianova. L'altro tracciato aveva dei costi eccessivi, abbiamo visto anche alcune problematiche dei vari comuni, adesso l'ANAS procederà speditamente nel progetto, nel frattempo i singoli consigli comunali o comunque diciamo le realtà territoriali discuteranno anche di questo studio di fattibilità che ci è stato rimesso appunto dall'ANAS per far sì che insomma abbia una condivisione anche da un punto di vista della popolazione. Dopo la Fondo Valle Sangro questa è l'altra grande opera infrastrutturale viaria che è stata prevista nel masterplan per cui abbiamo tutta l'intenzione, l'ANAS ha le competenze e le capacità diciamo per andare speditamente per cui io spero che nel giro di un paio d'anni riusciamo insomma a realizzare, a iniziare la realizzazione dell'opera, forse l'inizio anche prima. Ieri e oggi all'Università di Tenamo in partenariato con l'associazione ATSC, agenti Tenamo senza confini, è in programma il primo carardè degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari in Italia, un interessante evento a cui hanno preso parte numerose aziende a carattere nazionale, dunque un'importante occasione per avviare processi di selezione di risorse umane mediante colloqui conoscitivi, raccolta di curriculum e presentazioni aziendali. Una tradizione assolutamente consolidata e questo carardè è un carardè particolare perché è dedicato agli agenti di commercio e consulenti finanziari, è il primo carardè in Italia che una università ha riservato a una categoria di professionisti particolari e quindi di questo siamo davvero molto contenti. Sono andate molto bene, quella di oggi in realtà ha un modello completamente diverso e particolare, sono oltre 650 gli agenti di commercio che sono arrivati a Teramo da ogni parte d'Italia, 24 le aziende che hanno partecipato e cui il 90% da fuori regione, quindi un placement di Ateneo fortemente attrattivo che guarda non solo alla regione Abruzzo ma anche al di fuori e di questo ne siamo particolarmente contenti. Qual è la facoltà che si avvicina di più a questo mondo? Con questo specifico career day sicuramente la facoltà di scienza della comunicazione sfruttando anche la perfetta sinergia che la facoltà da 4 anni a questa parte ha con degli iscritti particolari, cioè con la corte di professionisti proprio di agenti di commercio, quindi una sinergia tra facoltà e agenti che è stata poi strutturata e realizzata con un career day specifico. A causa della lentezza del sistema giustizia 50 ex lavoratori del gruppo industriale Time di Mociano mobilificio in concordato preventivo dal 2012 ma omologato a giugno 2014 sono ancora in attesa degli arretrati, anzi rischiano che il loro credito nei confronti dell'azienda per cui hanno lavorato vada in prescrizione. Stiamo parlando di circa mezzo milione di euro, somme che allo scadere di 5 anni verranno totalmente perse a causa di un cavillo legislativo che ne ha bloccato da 4 anni la risoluzione. Purtroppo il problema è proprio questo, la nostra legislazione che non funziona, ossia il concordato omologato nel 2014 è stato impugnato dall'allora Banca Tercas, oggi Banca di Bari. Da allora pende questo giudizio in Corte di Cassazione e la Corte di Cassazione non ha mai fatto un'udienza per decidere in merito all'opposizione fatta. Fino a quando c'è questa opposizione noi non possiamo chiedere il pagamento all'Inps del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità per i lavoratori. Stanno per scadere i cinque anni e rischiamo di perdere questi soldi. Stiamo parlando di quasi mezzo milione di euro di retribuzioni e trattamento di fine rapporto dovuto a questi lavoratori all'interno del concordato. E' un grosso problema perché i lavoratori non capiscono per quale motivo le loro retribuzioni, i loro TFR siano bloccati per un cavillo legislativo, neanche burocratico, cioè per quale motivo la Corte di Cassazione a distanza di quasi cinque anni ancora convoca un'udienza per esprimere il proprio parere sull'opposizione della Tercas. Abbiamo fatto tante cose, sia di carattere sindacale che di carattere legale. Siamo arrivati persino questa primavera a interessare il Presidente del CSM come garante della tutela della giustizia nei confronti dei cittadini, dei lavoratori. Abbiamo scritto al Presidente Mattarella, abbiamo atteso otto mesi affinché quella lettera diventasse qualcosa di concreto, ma era una semplice richiesta di intervento per una giustizia giusta, equa. Non abbiamo avuto nessun intervento, non abbiamo risolto assolutamente nulla e quindi adesso siamo passati alle rivendicazioni. Gli operatori del settore turistico non solo continuano la loro battaglia per dire no alla tassa di toggiorno, un'imposta ritenuta a loro dire dannosa per l'economia locale, in un momento storico ed economico particolarmente difficile per il territorio. Ma nonostante questo il grido d'allarme e diversi comuni costieri stanno tirando dritto verso l'introduzione della tassa. Ultimo in ordine di tempo semprerebbe essere il comune di Silvi, una situazione su cui anche la confartigianato di Teramo è intervenuta definendo questa scelta solo un balzello per fare cassa. È chiaro che non va bene perché i comuni non possono fare cassa mettendo un'altra tassa, anche se dicono che sono i turisti a pagarla, però poi pagheranno gli albergatori perché gli albergatori hanno avuto già grossi problemi con il terremoto e quindi già qui non viene più nessuno e adesso ci si mette anche ad aggravare la tassa comunale, allora dico dove andiamo a finire perché i comuni se hanno bisogno di soldi dovevano lamentarsi quando il governo ha ridotto le risorse per i comuni perché è chiaro che il governo toglie le risorse per darsene a loro perché poi pensioni d'oro, vitalizi, impiegati pubblici che nel ministero non si sa quando se ne contano, quindi questo è il problema, che la politica costa troppo e chi paga sono i cittadini, quindi questo è una cosa impossibile perché stiamo vedendo le difficoltà che hanno gli albergatori e quindi è chiaro che c'è una corsa adesso tutti i comuni della costa, tutti vogliono mettere questa tassa, noi è chiaro che siamo a fianco degli imprenditori perché è chiaro che non vogliamo che questi imprenditori alla fine chiudano le attività per colpa dei comuni. Inaugurata nella frazione di Petriccione e Castellalto una nuova scuola elementare totalmente antisismica e senza barriere architettoniche e che costituisce il primo lotto di un progetto edilizio più ampio, una scuola innovativa per circa 160 bambini della scuola primaria, l'ambiente è stato progettato e realizzato nel rispetto delle più recenti indicazioni pedagogico-didattiche tenendo conto del profondo legame tra ambiente e territorio, gli spazi sono pensati per eliminare ogni separazione di percorsi tra bambini a diversa capacità motoria e assumono la connotazione di civic center a servizio della comunità locale. Sì, oggi è una giornata fondamentale per il studio comprensivo di Castellalto che è il mio onoro di dirigere perché oggi apriamo questo plesso bellissimo, meraviglioso, moderno, che rispetta tutti i criteri di sicurezza, di sostenibilità ambientale, ma non solo, però come potete vedere è un plesso ampio, luminoso, funzionale, con aule e laboratori adatti, adeguati a una didattica che abbia al centro il bambino. Per cui noi oggi siamo molto contenti e soprattutto siamo contenti di questa collaborazione che abbiamo qui col comune di Castellalto che ha sempre messo la scuola al centro della propria politica. Qui ci sono due sezioni di scuola primaria, dalla prima alla quinta, intorno ai 150 alunni. Qui oggi si riuniscono veramente due plessi preesistenti. Uno di Villa Zaccheo, che era Villa Zaccheo, che viene definitivamente chiuso l'edificio perché non era in qualche modo adatto a avere una scuola dentro. E delle classi che stavano della primaria stavano proprio a Castellalto a Capoluogo. Si riuniscono tutte quante qui, diviene il plesso di primaria di Pre-Triccione, come dicevo, con circa 150 bambini. Un bel risultato. Oggi dimostriamo che quando il pubblico è in sinergia con tutte le istituzioni funziona ed è in grado di raggiungere gli obiettivi. Una scuola completamente antisismica, non una sicurezza percepita ma una sicurezza reale e un investimento sul futuro per le nuove generazioni. Questo grazie all'apporto di tutti, delle istituzioni e di tutti quanti quelli che hanno, mi permetto di dire, dato una parola e un consiglio giusto a questa comunità che mi onoro di rappresentare. Il commissario ha preso degli impegni anche per la ricostruzione di questo territorio. Sì, siamo stati in una visita fuori programma perché è come sottosegretario, come commissario ci tenevo al fatto che vedesse anche il nostro territorio, il patrimonio delle chiese che sono un grande e importante pezzo di comunità che va curato e salvaguardato. Abbiamo un patrimonio che risale dopo l'anno 1000 e penso che quello sia anche il segnale della ripartenza. Ennesimo incendio alla discarica del CIRSU fallito nel 2015 divampato nei capannoni dell'impianto di Grasciano. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme sono partite dalle tonnellate di rifiuti ammassate nei capannoni di pretrattamento dell'impianto, in cui da mesi dopo l'ordinanza della regione non ci sono più conferimenti. L'intervento immediato dei pompieri ha evitato il peggio e molto probabilmente anche il formarsi di una nube tossica. Una situazione che ha ovviamente fatto tornare alla carica il sindaco di Notaresco, Diego di Bonaventura. Un'autocombustione a gennaio, stiamo quasi a zero termico la mattina alle 7, immaginiamo che cosa potrà succedere a breve. Io lo dico pubblicamente, sono felice ieri perché l'arma dei carabinieri con Capitanato dal Maggiore nuovo che è arrivato a Giulianova, che veramente ha dimostrato le capacità che qualcuno mi diceva, è stato lui con l'arte a verificare le emissioni, adesso mi ha riassicurato e adesso prenderò in mano io, vi scriverò e voi di conseguenza fate gli atti profedeosi. In questo passaggio manca la regione Abruzzo, perché la regione Abruzzo potrebbe, senza spendere una lira, rimuovere i rifiuti, utilizzando le polizze fidelissure che ha in regione. Non si capisce che sono tre mesi che la regione è assente. Io non aspetto il 4 marzo le elezioni, bisogna agire entro febbraio affinché il processo di smantellamento di questi rifiuti dentro al sito vengano portati fuori. Il problema che io pongo è la salute pubblica. Le emissioni di ieri creavano disagio all'ambiente e alle persone che vivono qui attorno. Queste sono le domande che faccio. Io non è che l'ho detto pubblicamente, non facevo le battaglie per candidarmi a Roma né in regione e lo dimostro con i fatti, perché io cerco di difendere solamente il mio territorio. Stiamo aspettando le analisi, il maggiore un po' mi ha rassicurato, però è spaventato perché se ci fosse un incendio di dimensioni più grandi il problema sarebbe non solo per Notalescu ma per tutta la provincia di Teramo. Io vi ricordo Pomezia, lo ricordo più che a me, a chi dovrebbe fare che non fa. Ciao! 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 Grazie a tutti!